Cari alunni di Lerska, prima di tutto vorrei darvi il benvenuto in questo nuovo anno appena cominciato. Cazzo, sto malissimo. A un certo punto passerà. Anche se non state insieme non vuol dire che sia tutto perduto. Ora non si fida più di me. Pensavo veramente che avresti ammesso di essere tu in quel video. Ho pensato a te per tutte le vacanze, però è stato anche bello avere un po' di spazio. Non credo proprio che tu capisca quanto io sia pentito di aver fatto quello che ho fatto. Fa finta che non esista. È la persona più orribile di questo mondo. Marcus. Simon. Lo conosci? Tu pensi sempre di farla franca. Ma la testa che non va, porche puttala, non lo vedi? Come faccio a fidarmi di te? Non vogliono che tu venga associato a me. Non me ne vado. Non è una decisione che spetta a lei. Pagherai le conseguenze se minacci la corona. Ha manifestato la necessità di un piano B. Potrei essere libero. Non lo sai bene anche tu che bisogna lottare per quello che si vuole. Che ci succederà? Non ci succederà. Non ci succederà. Grazie a tutti